Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano, volevo diventare il re dei mondani, io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire. E' tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti in costante sprazze di bellezza e poi lo squallore disgraziato è l'uomo miserabile.